Sul palco di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero si sente libera. Libera di esprimersi. Esprimere i propri sentimenti, lontana da giudizi e pregiudizi come quando ha raccontato di aver sofferto di crisi di panico. Oggi Bianca è una donna diversa, è sempre una mamma, ma è pronta anche a tornare ad amare un uomo. Troverà l'amore a Ballando? Magari nel suo cavaliere, anche lui single, Giovanni Pernice? Chissà. Un nuovo amore. Al settimanale chi confessa di essere single da otto anni, sono stata innamorata, ora non lo sono più e spero di innamorarmi, mi sento pronta per ricominciare a costruire, senza ombre. Quando finisce un matrimonio ci sono tante cose che devi elaborare anche per avere, in futuro, una storia sana, senza metterci negatività. Mi sento di avere lavorato tanto su questa cosa che è finita, sui miei errori. Oggi mi sento predisposta. I rumors che ci sono in questi giorni sono pesanti. Il gossip dice che tra Bianca Guaccero e il suo insegnante di ballo, Giovanni Pernice ci sia del tenero. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini arriva la pronta smentita, non c'è niente fra di noi, stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C'è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tantissime cose in pochissimo tempo. E con Fabrizio Moro c'è solo amicizia? Chiede chi risposta, siamo amici, non abbiamo mai avuto una storia. E sai chi c'era con noi a cena quella sera? Un mio grandissimo amico, Renato Zero. Ed ecco che tutto torna, i cerchi a volte si chiudono. Porte chiuse anche per il suo ex, Nicola Ventola. Voglio bene a Nicola e lui lo sa. Ci vogliamo bene, siamo importanti nella vita dell'altro. Si dice mai dire mai, però vorrei guardare avanti, le cose cambiano, si evolvono. Sto bene così con lui, durerà per sempre. Le persone importanti non le devi perdere, ti hanno formato, ti hanno cambiato, ti hanno trasformato, le devi tenere. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.